Ok, ciao, io sono Martina Badia Lima su Instagram e su Raverly e mi accomodo sulla mia sedia e questo è il mio podcast, parliamo di maglia in cui più o meno una volta ogni due settimane mi siedo davanti a una fotocamera e parlo da sola o più o meno a cadenza alternata con qualcuno di maglia non solo dal punto di vista dei miei lavori e delle cose che faccio perché la maglia è il mio hobby e la mia passione ma anche dal punto di vista dei libri, delle pubblicazioni e appunto quando capita di parlare di maglia con qualcuno è qualcuno che per una ragione qualunque è legato o legata al mondo della maglia allora, è da un po' che non ci sentiamo, non ci vediamo così, diciamo, nel mio salotto con la mia libreria alle spalle e allora, dunque, ci sono un po' di cose che sono successe che vi voglio dire mi sono anche fatta un po' di appunti vado un pochino a ruota libera non so sinceramente se oggi sfoglieremo insieme un libro o dei libri oppure no voglio vedere a che punto sono arrivata col tempo, quando avrò esaurito tutti gli argomenti allora, la prima cosa di cui vi voglio parlare è una cosa che mi sta molto a cuore e che penso sia importante una settimana fa, circa dieci giorni fa, forse quando, perché questo video uscirà tra qualche giorno è successo che Fruity Knitting, che è un podcast molto importante forse il podcast di maglia video più importante ha pubblicato un video con un annuncio ora, se non siete ancora andati a vederlo vi consiglio di andare a vedere questa cosa io non è mia intenzione dire di che cosa si parla in questo video perché non è mio compito e vi dico che io sono rimasta molto colpita da questa cosa e è difficile per me parlarne però nonostante, come dire, ci sia una differenza di numeri una differenza di mezzi, una differenza anche di intenzioni veramente grande, è un abisso tra quello che faccio io e quello che fra Fruity Knitting posso dire che Fruity Knitting è stata veramente l'ispirazione principale per cui io un giorno, un paio di anni fa, mi sono messa davanti al mio telefono e ho cominciato a parlare di riviste di maglia e del mio modo di vivere la maglia e quindi se non conoscete Fruity Knitting andate lì se li seguite considerate una donazione o di diventare Patreon io ho fatto qualche mese di pausa dall'essere Patreon di Fruity Knitting per ragioni mie e ho ricominciato anche diciamo il contributo più piccolo è comunque un grande aiuto per loro in questo momento e quindi diciamo per quello che vale e per quello che è il mio piccolissimo il mio piccolissimo come dire contributo a questa cosa al di là come dire dei pensieri delle intenzioni vogliamo chiamarli preghiere vogliamo chiamarli intenzioni vogliamo chiamarli pensieri questo insomma non importa penso che dargli un aiuto concreto sia la cosa da fare in questo momento e appunto se non lo fate vi invito a farlo ok io questa cosa la dovevo dire proprio perché senza Fruity Knitting parliamo di maglia non sarebbe mai uscito fuori non mi sarebbe mai venuta questa voglia di parlare di cose e a volte io parlo delle cose di cui loro parlano cioè sono una grandissima ispirazione per me è un grandissimo stimolo è un grandissimo esempio anche fuori dalla maglia e insomma la sfiga ci vede veramente bene ragazzi e chiudo questa parentesi dunque appunto dicevo oddio ora respiro un attimo dicevo è da un po' che non ci vediamo quindi cosa è successo? è successo che dopo Net Italia ho avuto bisogno veramente di un attimo di reset di pausa proprio di prendermi del tempo per lavorare a maglia perché mi rendevo conto che siccome ci sono tante cose che voglio dire purtroppo è successo che magari ho dedicato tanta energia al podcast e poco al mio lavoro a maglia e le due cose insomma devono andare avanti di pari passo comunque la creatività che si esprime nel lavoro a maglia è fondamentale insomma per avere qualcosa di cui parlarvi e per tenermi comunque legata al fatto che l'obby principale è la maglia non è il podcast quindi ho fatto un po' di cose e voglio parlarvi dei miei progetti finiti dei miei progetti in corso e diciamo un po' delle cose che sono successe in questo in questo momento in questo periodo allora ho un altro piccolo inciso a me dispiace tantissimo per l'audio dell'episodio precedente ci sono state le vive proteste che non sono rimaste inascoltate la prossima volta spero di riuscire a fare un lavoro migliore se vi è interessato se siete rimasti diciamo con la voglia di conoscere Federica spero di riuscire a ribeccarla insomma magari la la vado a trovare a Torino appena diciamo questo periodo pazzo si calma un po' oppure faremo una call su Zoom e comunque insomma se non la conoscevate vi è rimasta la voglia potete seguirla sappiate che lei ha un suo podcast insieme a altre due knitter che sono Federica e Roberta e che si chiamano le dritte ritorte ne ho già parlato altre volte loro sono carinissime fanno dei progetti bellissimi e fanno anche degli spezzoni su come si usa Raverly quindi ecco questo è un altro inciso che come dire volevo volevo mettere fuori e e quindi ecco io spero diciamo che la qualità vada sempre migliorando il suono purtroppo è un mondo complicatissimo in generale diciamo tutto quello che riguarda le riprese audio video insomma c'è gente che lo fa di mestiere continuando a studiare per una vita e io veramente faccio quello che posso però mi è dispiaciuto nello stesso tempo ho detto cavolo non voglio buttare via questo materiale quindi insomma l'ho proposto lo stesso tornando ai miei progetti finiti intanto vi presento il mio carbet ne sono contentissima ho utilizzato il tutorial per i bottoni che mi ha segnalato Laura che ringrazio e vi dico qual è poi ve lo lascio nelle nelle note vi ricordo sempre questo come come regola generale diciamo come come cosa da tenere a mente che tutte le note riguardanti quello di cui parliamo quello di cui parlo tutti i link tutto si trova poi nel mio blog che molto semplicemente si intitola parliamo di maglia punto it lì trovate anche i link ad amazon attraverso cui se volete potete supportare il canale per ora è l'unico modo in cui io come dire vi chiedo se avete voglia di dare un contributo al canale potete cliccare su uno di questi link e andare su amazon non dovete per forza acquistare il prodotto che è sul link ma poi continuate la vostra navigazione fate i vostri acquisti e amazon riconosce una micro percentuale al mio link che poi come dire mi viene riconosciuto come un buono che io posso spendere quindi insomma è proprio una cosa non voglio dire simbolica però non è che richiedo un contributo ulteriore ho fatto tutti gli annunci all'inizio vabbè comunque il tutorial per i bottoni del carpet è adding buttons to your knitting il canale è knitting with suzanne bryan e è molto carino perché dà questa dritta qua cioè di aggiungere dei bottoni dietro e io quello che ho fatto è che ho aggiunto dei bottoni sempre di legno ma colorati ora non so se si riescono a vedere vedete e mi è piaciuto aggiungere questo dettaglio perché comunque è un maglioncino che è venuto molto carino ma è abbastanza serio abbastanza insomma il carpet a meno che uno non lo faccia di colori ha una linea molto pulita e quindi avere questo piccolo dettaglio di bottoncini diversi mi è piaciuto adesso sempre riguardo ai bottoni la prossima cosa che devo fare è aggiungere i bottoni a l'oregon vest li ho già comprati sia i bottoncini per il fuori che per il dentro perché appunto li userò la stessa tecnica e devo dire forse l'avevo già raccontato l'unica cosa di cui non sono molto contenta è come mi sono venute le asole ma perché di fatto non è che ci fosse tanto un pensiero dietro queste asole le ho fatte come diceva il pattern ma secondo me insomma potrebbero essere veramente meglio queste asoline qui ora troverò cercherò un modo di rifinirle vorrei evitare di sfare dico la verità però ecco a mali estremi eventualmente ci saranno estremi rimedi dunque i progetti finiti mi sembra che siano tutti qua perché non ho finito un bel cavolo di niente ah no ho fatto e finito in pochissimo tempo il mountain mist di tink and nits per Gaia la mia bimba di sette anni e non ce l'ho qui perché lei attualmente non è in casa e ce l'ha addosso e quindi così però è un progetto molto carino l'ho fatto con la drops air che ho in stash che non è un filato eccelso ma secondo me per i bambini è perfetto perché è molto morbido e non pizzica assolutamente è bello caldo ma senza essere pesante e appunto quindi ti viene fuori un lavoro molto molto leggero veloce da lavorare e quindi insomma sono rimasta molto contenta Gaia ha scelto dei colori veramente belli creando un paesaggio autunnale il bello del pattern mountain mist è che veramente a seconda di come uno gioca con i colori puoi creare proprio questo effetto di paesaggio di montagne che si come dire sfumano in lontananza oppure si può giocare con questi triangoli o cuori rovesciati in modo che ci sia un effetto più grafico poi che cosa è successo vi ricorderete che avevo iniziato terrazzo milanese il pattern di Francesca purtroppo mi sono resa conto che la cake che stavo usando non funzionava con la forma a mezzaluna del a semicerchio viene di questo challe perché il bello di questa cake che sto usando è il fatto secondo me di mantenere la progressione dei colori dal centro verso il fuori quindi mi sono detta ok niente abbandono quest'idea e ho iniziato il mio secondo p shawl il p shawl è un pattern di Elizabeth Zimmerman che consiste in uno scialle che è perfettamente rotondo e si lavora proprio seguendo la formula matematica del pi greco quella che si usa per calcolare l'area o la circonferenza ragazze la mia geometria è molto arrugginita comunque il pattern è contenuto in Nitter Salmanach altro inciso rispetto al lavoro di Francesca che se non la conoscete è l'autrice e voce di parole a maglia sta facendo degli episodi molto interessanti dedicati ai vari capitoli del Nitter Salmanach quindi vi consiglio assolutamente di andarveli a sentire e vedete che in questo modo si mantiene la progressione cioè al centro c'è tutto questo rosso poi adesso c'è questo arancione misto a questo verdino che poi fa un colore tipo giallognolo poi ci sarà il rosa rosa viola il blu e poi il questo beige che in realtà è un beige e un ghiaccio sono questi due colori insieme vedete eccoli qui questa è una cake che ho comprato un po' di tempo fa da Ivana ovviamente sta vendendo una cosa assolutamente smisurata è gigantesco sono già arrivata diciamo alla parte più larga e veramente non vorrei che mi venisse poi un copriletto anche se è talmente sottile il filato che anche se lo faccio ampio poi insomma lo raddoppio e spero che sia comunque portabile anche se molto molto ampio il fishhole è descritto in varie varianti all'interno del Niteras Almanac io sto facendo quello che è come dire con i i i buchini concentrici scusate e poi un questo lace che chiaramente adesso non si non si può apprezzare perché chiaramente tutto non riesco proprio a farvelo vedere che si chiama mi sembra gulls fly una cosa che cioè tipo volo di gabbiani una roba del genere comunque vengono praticamente delle v che sembrano un po' dei gabbiani stilizzati quelli che si disegnano da bambini ecco e poi quando è tutto aperto bloccato con questo bordo insomma come dire fa la sua porca figura lo sto tenendo dentro la mia borsina che mi ha regalato la Laura e e niente ogni tanto me lo porto dietro ogni tanto resta a casa insomma è comunque molto bello perché ok il pattern diciamo del lace grazie a Enrico che mi ha istruito sul lace quel corso mi ha aperto veramente il cervello da questo punto di vista il lace è abbastanza facile da memorizzare ma poi c'è un giro di più di 500 punti in cui vai tutto dritto quindi anche diciamo da avere in giro infatti Elisabeth Zimmerman lo definiva uno dei progetti più da viaggio perché comunque resta molto compatto perché la lana è fine e hai tanto 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 da fare tanto da lavorare poi progetti in corso lascio lascio per ultimo il calpellino sono rullo di tamburi sono il campo base del mio monte Everest ho trovato questa definizione perché in questa bellissima borsa porta progetto sacchettaccio di carta perché comunque alla fine io non mi smentisco mai cosa ho iniziato ho iniziato lo Yale questo è lo swatch allora praticamente mi sono detta lo swatch l'ho guardato ma fino a un certo punto oh mamma mia è caduto sono è una marea di punti ho fatto solo due righe per ora due giri mi sono detta tanto io devo fare sicuramente devo mettere su la taglia più piccola perché viene in due taglie lo Yale SM LXL LXL era troppo per me anche se come dire io non sono sicuramente minuta ma cioè diventava una roba esagerata allora mi sono detta anche se sono un pochino sopra di gauge faccio comunque la taglia più piccola così mi ritrovo un po' a metà perché effettivamente il mio campione è un pochino abbondantino e niente sono partita e poi è rimasto lì ho fatto due giri e è rimasto lì però sono contenta di averlo di averlo avviato allora l'ultima cosa che vi voglio far vedere che mi sta diciamo abbastanza impegnando scusate hopla ecco rimesso a posto è finalmente perché mi sono resa conto che il tempo qua stringe il calpellino il calpellino di Arianna allora Arianna penso che non abbia bisogno di presentazioni le avventure di Arianna è una knitter e podcast attrice italiana che però vive in Cina e stagionalmente propone dei cal sul suo gruppo su Raverly e questo è il turno del calpellino allora mi sono resa conto che il 21 cioè si chiude il cal e io avevo detto no ma faccio questo 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 e quest'altro stavo facendo niente quindi ho detto avviamo allora inizialmente ho avviato un progetto che avevo nella mia queue e diciamo nella mia make nine challenge da un pezzo cioè il chambered nautilus tam penso che sia quello di Elizabeth Zimmerman che è un basco a spirale tutto a legaccio e ai cord che è contenuto nel libro knit one knit all è diciamo un pezzo molto iconico di Elizabeth Zimmerman poi a me i baschi piacciono e mi sembrava insomma che potesse essere un bel regalo l'ho avviato e non ero convinta non mi stava venendo come volevo cioè ci sono delle cose che ancora non afferro forse mi ci vuole un corso dell'alice twain anche su quello non lo so fatto sta che ci sono delle accortezze nel pattern anche se è molto ripetitivo che non ho come dire colto subito colto fino in fondo subito quindi l'ho lasciato perdere ho detto no non ce la faccio sono un po' stanca in questo periodo lo lascio lo lascio stare quindi ho guardato nella mia library di 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 raverly ho guardato un po' anche nella mia queue e ho trovato questo che si chiama come si chiama si chiama antler talk di think and knit sapete che io sono una grande amante di think and knit e è un le sto facendo i miei amati denise distrattati da tutti ma io li amo i denise una volta se volete vi parlerò dei ferri che uso e che mi piacciono i denise sono per le misure diciamo dal 4 in su assolutamente tra i miei preferiti è un progetto molto veloce un progetto free e che mi sta dando soddisfazione e diventerà un regalo di natale e ne vorrei fare altri perché ho tirato fuori chiaramente sto lavorando dallo stash questa è la new cedro di borgo dei pazzi e questi sono gli avanzi ne ho una sacchettata di avanzi nei colori che avevo usato per il mio soldotna e la la cedro è perfetta per le trecce e quindi insomma mi ci darò dentro in modo da avere un po' di regali pronti i colori sono molto belli anche presi singolarmente poi magari se ci saranno degli avanzi li userò insieme in modo da dare fondo poi mi sono tirata fuori anche altri avanzi che avevo sparsi un po' così perché il prossimo che vorrei fare è un oslo hat di petite knits che è una roba penso di una noia mortale ma viene un cappello molto basic molto carino e mi sono tirata fuori avanzi robe così un po' un po' abbandonate a loro stesse che hanno bisogno di trovare una loro collocazione secondo me questa sarà la strada di casa legato al calpellino c'è un'altra cosa che vi voglio raccontare diciamo che adesso si apre il capitolo parliamo di maglia charity perché cosa è successo è successo che anche lì più o meno una decina di giorni fa mi hanno mandato un messaggio su instagram le persone di innocent italia allora cosa fa innocent innocent fa succhi di frutta il che detto così tipo frullati frullati con ingredienti freschi sinceramente non conosco benissimo questa questa azienda mi hanno contattato però dicendomi guarda tutti gli anni facciamo questa campagna in cui chiediamo a le persone che lavorano a maglia di fare dei cappellini per le nostre bottiglie e lì cioè tipo io ho avuto una specie penso la mia faccia è diventata una specie di punto interrogativo e gli ho detto aspetta un attimo cosa vuol dire questa cosa perché effettivamente è una roba un po' bizzarra se ci si pensa non è poi così bizzarra se si pensa che loro sono inglesi perché i i britannici insomma a volte hanno queste idee un po' pazze fatto sta che mi hanno spiegato che dal 2001 l'azienda è inglese originariamente poi si è diffusa in tutta Europa cosa fanno fanno questa campagna annuale in cui chiedono di realizzare dei cappellini che loro poi mettono sulla loro bottigliette e per ogni bottiglietta col cappellino che vendono donano una cifra X che nel nostro caso in Italia sono 20 centesimi a una associazione benefica nel nostro caso in Italia questi 20 centesimi vanno a non voglio dirlo male perché sarebbe un peccato Hauser Hauser è un'associazione che si occupa di assistenza a domicilio per gli anziani io come dire su queste cose vado sempre un pochino con i piedi di piombo anche se ho amiche diciamo che lavorano nel fundraising e tutto quanto ho detto aspetta un attimo però insomma mi sono informata e come dire è tutto regolare è tutto a posto anzi è stato molto bello perché poi ho detto alla persona insomma di innocent di telefonarmi per spiegarmi meglio mi ha detto guarda è stato molto importante fare questa raccolta perché l'anno scorso ci siamo ritrovati insomma a poter dare questa donazione abbastanza sostanziosa perché comunque hanno raccolto e venduto 20.000 bottigliette quindi 20.000 e 20 centesimi fate voi il conto di quanto è venuto fuori e è stato possibile durante il covid dare una mano insomma a queste persone che non potevano uscire comunque gli anziani soli insomma come si sono vissuti il covid lo sappiamo non c'è bisogno che io ve lo stia a raccontare e insomma poi ho parlato anche con con delle amiche insomma di maglia di questa cosa e è venuto fuori che qualcuno beneficia ai genitori che hanno beneficiato di Hauser qualcun altro lo conosceva già e ha detto dio figata ai cappellini in particolare Arianna perché cosa è successo è successo che mi hanno detto ma guarda insomma per aiutarti diciamo a parlare della nostra campagna vogliamo mandarti una goodie box in cui ci sono vari gadget anche un paio di ferri e un gomitolo una tazza una scatola di biscotti per insomma appunto aiutarmi a parlare di questa cosa io ho detto aspetta un attimo non mandare a me questa cosa io cioè come dire non ne sento l'esigenza ma mettiamola anzi come premio per il calpellino di Arianna quindi ne ho parlato con Arianna che appunto mi ha detto ma sì no ma io mi ricordo quando ero in Inghilterra che sferruzzavano questi cappellini e tutto quanto e adesso questa box è tra i premi del calpellino quindi se avete piacere di sferruzzare dei micro cappellini io ne sto facendo uno al giorno ci vuole veramente dieci minuti a farne uno perché sono piccoli così mi lascio anche il link alla pagina Raverly in cui trovate tutti i pattern la differenza ora ve ne faccio vedere qualcuno con il pattern che c'è sul loro sito o quello che potete trovare su Raverly è che io ovviamente li sto facendo in tondo col Magic Loop vedete che ce n'è già qualcuno questo è l'ultimo che ho fatto oggi perché poi è divertente perché sono talmente piccoli che uno veramente può vabbè a parte che usi qualunque avanzo di lana e sto imparando a fare i pompon perché io non avevo mai fatto i pompon e poi li devo praticamente nascondere dalle bimbe perché sennò li vorrebbero usare per le bambole ho fatto questo cioè sto usando proprio tutti gli avanzi questa figuriamoci era una lana di lanar vabbè questo è un altro avanzo ma questa era una lana di lanar con cui avevo fatto quando ancora pensavo di imparare a fare l'uncinetto una roba all'uncinetto per Gaia ma ormai appunto sette anni fa e ho ritrovato questo pezzo di lana e poi ho questo insomma ne sto facendo un po' appunto ne faccio uno al giorno mi ci vuole fate conto che sono 28 maglie e per 12 giri cioè 12 giri o 12 avanti e indietro se lo fate in piano su Raverly appunto trovate anche delle cose un pochino più sfiziose quasi degli amigurumi amigurumi fatti fatti così io mi limito sinceramente a divertirmi insomma magari appunto con delle righe oppure come l'avete visto prima questo qua di oggi con una semplice grana di riso in cui però ho anche alternato i colori questo è del piccolo vedete poi è venuto perché è venuto a una texture diversa quindi è venuto tipo un mini basco mi fa troppo ridere vuole la libertà e e quindi li sto mettendo in questo sacchetto che ce l'avevo l'ho recuperato quindi se avete della lana che vi avanza se state partecipando al calpellino o se volete partecipare al calpellino e siete super motivati dal fatto di volere una tazza gratis partecipate e e poi penso che loro facciano lì si possono spedire oppure si possono penso che diffonderanno dei centri di raccolta comunque c'è tutto l'inverno per farli quindi come dire spero di riempire questo almeno metà di questo sacchetto e si poi appunto ho raccolto qua dentro zero calcare la mia borsa di zero calcare tutti i miei avanzi di lana eccetera altro capitolo Ceriti viva vittoria come sta andando quindi chiuso il capitolo Innocent Hauser aperto il capitolo viva vittoria ho lasciato un pochino in ibernazione il mio quadrato 50x50 perché appunto è venuto fuori di tutto però ho pensato che unirò le mattonelle di Arne e Carlos fatte in un momento di grandissimo stress e di grandissima così prostrazione si può dire momento di fatica generale e ci farò un 50x50 con queste così come dire perché ci volevo fare la cosa di rivestimento di un cuscino ma poi veramente queste mattonelle sono legate ora sperando di non tornarci a capofitto ma sono legate a un momento talmente faticoso che veramente preferisco rimetterle in circolazione preferisco che vadano proprio per la loro strada e in più sto facendo il mio la mia mattonellona in avanti e indietro in dritto e rovescio con dei semplici motivi appunto di dritto e rovescio la sto facendo un po' così all'impronta e e basta questo questo è un pochino quello che che ho da dire per quanto riguarda i miei progetti finiti niente con questo episodio appunto si apre una nuova stagione di parliamo di maglia chiamiamola così un nuovo ciclo perché sì insomma mi piace avere questa questa ciclicità quindi siamo già al terzo ciclo di parliamo di maglia e bene direi che forse c'è tempo per parlare di dei libri di pesfogliare insieme qualche libro quindi ci vediamo tra un attimo con i libri da guardare insieme allora il libro che voglio sfogliare con voi oggi è questo si intitola Knitting with two colors ed è un libro di Max Wonson e Amy Detgen Amy Detgen è la sua assistente storica dunque potete vedere le interviste all'una e all'altra su Fruity Knitting e anche io ho avuto il piacere di fare una breve conversazione con Max Wonson quando è stata nel 2019 a Firenze e vi lascerò sicuramente il link su parliamo di maglia punto it dunque io come ho acquistato questo libro l'ho acquistato tramite Enrico Castronovo Letrico Tervolan e penso che possa tranquillamente come dire farvelo arrivare se avete difficoltà a ordinarlo direttamente da Schoolhouse Press ma come al solito per quanto riguarda queste pubblicazioni io vi consiglio sempre di ok dare un'occhiata ad Amazon ma anche dare un'occhiata ad Ave Books dove spesso questi libri e libri di maglia in generale si trovano a prezzi veramente molto convenienti allora perché ho ripreso in mano questo libro ovviamente perché sto per imbarcarmi in un progetto trend abbastanza importante poi ho notato questa chicca non so se riconoscete avete visto questo tipo avete visto quest'uomo riconoscete quest'uomo riconoscete questo gilet e mi ha fatto molto ridere questo piccolo come dire easter egg che Meg Swanson questo tributo che Meg Swanson ha messo a il lavoro di Alice Starmore e ecco vi voglio parlare di questo libro perché non è soltanto una guida a il design dei propri dei propri modelli con a due colori o comunque diciamo con la tecnica dello stranded o diciamo le tecniche che prevedono l'utilizzo di due colori perché c'è anche una parte su l'Armenian knitting in questo in questo libro ma eccolo qui vedete picture knitting che è di fatto l'Armenian knitting ma è molto bello perché dà tutta una serie di informazioni molto importanti molto utili su proprio la tecnica del lavoro a due colori sono tutte informazioni o quasi che Max Wonsen ci ha dato durante il suo corso ma alcune per esempio tutto questo paragrafo su come si modella un collo sono contenute qui vedete che c'è il collo a V c'è questo che non riesco a capire bene come si chiama questo che sembra tipicamente norvegese quello chiama scoop poi c'è quello ovale squadrato e quello il numero 5 non me lo definisce comunque il numero 5 è quello che sembra un pochino più quasi islandese poi ovviamente c'è ci sono le short rose durante il color work è molto interessante capire e io avrei voluto averlo mentre lavoravo o a capire per esempio come si fanno gli aumenti come si fanno le diminuzioni come tenere il pattern uniforme durante aumenti e diminuzioni quindi come si mascherano poi come si fanno gli stick questo appunto è come si mantiene il pattern è è un libro che porta il discorso della lavorazione a due colori specialmente nella modalità che preferisce Max Wonsen quindi per interi capi quindi non solo limitandoci al allo sprone o a un dettaglio ma proprio per dei pattern che appunto come lo yell che andrò a fare hanno tutto 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 il capo ricoperto diciamo di motivi a motivi però nello stesso tempo dà anche delle buonissime indicazioni per esempio su come vi dicevo prima non si cioè copre tutti e due gli argomenti cioè sia il design personale quindi per esempio c'è la formula del l'eps e anche per il drop shoulder che è praticamente questo e per esempio ti dà delle buonissime dritte su come fare a centrare i pattern cosa che per me resta un mistero infatti quando le mie bambine mi dicono mamma ma noi vorremmo che tu ci facessi un maglioncino con questo e questa cosa io gli dico guardate no io non sono in grado e le dirotto diciamo su delle cose che sono già state fatte questa è un po' la storia del mountain mist Guy aveva in mente dei disegni fantasmagorici di paesaggi marini io gli dico ma che ne dici se invece che al mare andiamo in montagna perché lei sfogliano i libri di pattern magari di Alice Starmore ecco magari se mi fossi ricordata prima di di aver avuto questo questo libro sarei stata forse in grado di farglielo è chiaro che io sapete sempre mi schernisco un po' dal discorso del design perché non so come dire sono un po' pigra forse mentalmente un'altra cosa molto bella molto interessante che si impara in questo libro e che si impara nei corsi di Meg Swanson è come fare questo lavoro qui cioè questi maglioni qua non so se li vedete sono questo quindi qui qui c'è uno stick e la maglia la 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 manica è è stata fatta ma vedete che non c'è soluzione di continuità nel pattern cioè non si vede l'attacco della manica questa è una cosa che io voglio assolutamente tenere in conto per il mio yell perché praticamente c'è una tecnica che si chiama questa using pivot stitches che insomma poi se sicuramente non ne parla solo qui ci sono anche dei video di Schoolhouse Press in cui potete imparare questa tecnica o immagino che ci saranno anche dei video su youtube in cui potete andare a cercare questa cosa ma serve proprio per dare la continuità e dare l'impressione che il pattern sia unico io l'ho visto dal vivo l'ho visto in un campione che lei si era portata ed è effettivamente impressionante forse era proprio uno di questi qui non mi ricordo se era quello rosso o uno di questi comunque vedete che praticamente cioè qui i punti vanno così e sulla manica vanno così cioè qua sono in orizzontale e la manica sono in verticale scusatemi qua sono in verticale e sulla manica sono in orizzontale quindi cioè qua sembra lo stesso ma i punti hanno un orientamento diverso poi c'è tutto un discorso da fare sullo sbieco perché vedete che questi sono tutti pattern che creano un motivo in sbieco non so se riuscite a vedere vedete sono tutti a quadrati che creano proprio lo sbieco e anche lì c'è come dire tutta una riflessione su come si comportano i punti ovviamente l'inciso che voglio fare è che si parla sempre di maglioni lavorati di lana in pura lana possibilmente non superwash perché nel momento in cui usate la superwash questo discorso del gauge e del modo in cui si comportano i punti in questi in questi motivi così che creano uno sbieco un cambia quindi è molto importante utilizzare appunto dei filati come quello che sto usando io qui qua jameson cioè quindi shetland cauni la cedro è chiaro che questa insomma è un po' grossa però sono queste lane non superwash penso che tutte abbiamo come dire ora io ho nominato queste ma ce ne sono tante insomma queste sono solo quelle che mi sono venute in mente ecco è molto importante utilizzare questo tipo di filato se no questo gioco non funziona quindi magsonsen ecco io la considero sicuramente una delle mie maestre di del lavoro a maglia è una grandissima esperta una grandissima insegnante se come dire non avete avuto occasione di esserci l'anno scorso nel 2019 sappiate che esistono dei bellissimi video disponibili su Schoolhouse Press si possono acquistare e restano in streaming disponibili sempre e allora aspetta che vediamo se riesco a farmi vedere dicevo esistono questi questi libri e non questi libri esistono i video di Meg Swanson e anche di Elizabeth Zimmerman si acquistano per un costo non eccessivo secondo me considerando che sono loro due e diciamo che sono un po' gli unici tutorial di maglia di cui uno potrebbe mai aver bisogno ecco sono davvero di qualità superiore ovviamente in inglese ed è un po' diciamo bere alla fonte proprio alla sorgente almeno per quanto mi riguarda per la mia sensibilità e sono ragionevolmente certa che tra questi streaming ce ne siano alcuni in cui vengono affrontati anche questi temi io ho knitting around ho knitting glossary e ho ovviamente knitting workshop ce li ho mi ero fatta questo regalo un tot di anni fa e quindi insomma queste tecniche se per voi è difficile recuperare il libro se in questo periodo insomma non avete tanto voglia di farvi arrivare spedizioni che come dire può essere del tutto comprensibile esistono si si acquistano poi sono disponibili streaming quindi è una cosa comoda immediata cioè uno paga con la carta con paypal e ce li ha subito disponibili ok io penso che sia tutto per questo episodio sono stata contenta di avervi parlato anche se in modo un po' improvvisato mi dovete perdonare per la mia mancanza di professionalità ultimamente in cui non mi arrovello più di tanto e vado in maniera un pochino più spontanea il prossimo episodio vedrà degli ospiti molto interessanti è già quasi pronto e però insomma farò comunque passare un po' di tempo in modo da riuscire comunque a darvi un po' di aggiornamenti sui miei lavori in corso e spero qualche lavoro finito e io vi saluto vi ricordo ancora una volta che trovate tutte le note su parliamo di maglia punto it appunto di nuovo vi saluto e vi auguro una buona giornata un buon fine settimana e ci vediamo la prossima volta ciao un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.